ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come nuova vita per maria de filippi o almeno un cambio rotta nella sua carriera la notizia è ufficiale la lancia sul web il messaggero la nota conduttrice mediaset che da anni conduce programmi tv di successo come amici uomini e donne e c'è posta per te sta per sperimentare una nuova professione ebbene sì maria de filippi proverà a fare l'attrice per un noto regista italiano e una serie tv di successo che andrà in onda in autunno su paramount q non ci credete vi assicuriamo che è tutto vero perché a dare la notizia è il messaggero che ha condiviso un tweet che non lascia spazio a interpretazioni de filippi avrà un ruolo nella nuova stagione di una serie tv italiana che promette risate ed emozioni firmate carlo verdone maria de filippi attrice mdf sarà nella nuova stagione di cancelletto vita da carlo in onda su paramount più da settembre verdone maria vi stupirà anche come attrice mi ha colpito per quanto è stata collaborativa si legge in una didascalia su twitter del giornale il messaggero come vedete nel post qui sotto vita da carlo è una serie che ha riscosso un grande successo fin dai primi episodi andati in onda su prime video e ora su paramount più continua l'avventura dell'artista romano che sa come divertire e far riflettere il suo pubblico da tanti anni sarà curioso e interessante vedere la nota conduttrice in questa versione inedita e al fianco di un attore comico così di esperienza con una carriera che non ha bisogno di presentazioni tra documentario e finzione la serie racconta la quotidianità di verdone tra lavoro famiglia e alcuni momenti esilaranti e impegnativi a cui è chiamato a partecipare nella sua adorata roma che ruolo avrà maria non si sa ma seguiranno sicuramente aggiornamenti grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video